Grazie, grazie Pastore Petrone. Un saluto a tutti quelli che sono collegati, che sono con noi stasera per ascoltare la parola di Dio. Abbiamo iniziato oggi alle 17 a parlare dell'importanza che la resurrezione di Gesù ha prodotto, l'importanza di quello che ha prodotto la resurrezione di Gesù, sia nella nostra vita come cristiani, ma nella dispensazione di tutto il genere umano. Quindi abbiamo parlato l'altra volta dell'importanza della morte di Gesù che ha posto fine a quello che era l'impero e il potere di Satana che si fondava sulla paura della morte e Gesù diventando uomo ha distrutto colui che aveva l'impero della morte liberando tutti quelli che per paura erano tenuti in schiavitù. Quindi il momento in cui Gesù è morto ha segnato un momento fondamentale, importantissimo, per quella che è la redenzione che Dio ha provveduto in Cristo, perché nel momento stesso in cui Gesù è morto, come abbiamo detto oggi alle 17, nel momento stesso in cui Gesù è morto, quello è stato il momento in cui è stata segnata l'eterna irrevocabile sconfitta di Satana e di tutte le sue corte. Però oltre all'importanza che riveste la morte di Gesù, di cui Paolo Apostolo parla nella sua prima lettera ai Corinzi, quando dice annunziate la morte del Signore finché egli venga, fate questo in memoria di me, annunziate la morte del Signore finché egli venga, perché c'è qualcosa di particolarmente importante nella morte, sicuramente c'è anche molto da dire per quanto concerne la resurrezione dai morti. Abbiamo detto stamattina che non solo Gesù ha resuscitato persone dalla morte, anche nel Vecchio Testamento alcuni profeti hanno resuscitato alcuni morti, dimostrando il potere del regno, dimostrando la perfetta affidabilità della parola di Dio, ma che anche Gesù stesso, prima di essere risorto lui dalla morte, ha resuscitato altre persone. Abbiamo visto l'esempio di Lazzaro, che è stato addirittura resuscitato dopo quattro giorni che era morto, proprio per dimostrare che Gesù l'ha resuscitato non da una morte apparente, ma da una morte reale, il corpo era già in putrefazione, e poi abbiamo visto che Gesù ha resuscitato anche la figlia di Airo, la giovinetta che era stata già dichiarata morta, Gesù l'ha risorta. Abbiamo visto che c'è una differenza notevole, sostanziale, tra la resurrezione di altri morti che, a differenza di Gesù, sono poi morti di nuovo, anche se sono stati resuscitati, mentre Gesù invece, nel momento in cui è stato risorto dalla morte, è stato poi, è asceso al cielo, è stato poi seduto, si è seduto nel trono alla destra del Padre. Sono duemila anni che lui è lì, vivente, intercede per noi, quindi noi abbiamo il privilegio di poter comunicare, di poter parlare, di poter adorare, di poter pregare, a differenza di altre religioni, un Dio vivente che ha vinto la morte. E stasera vorrei concentrarmi su cinque punti importanti, ovvero cinque evidenze, che dimostrano che Gesù Cristo è realmente risorto dai morti. Ve le dico tutte e cinque in una volta, poi dopo le analizziamo un po' più da vicino. La prima evidenza che dimostra che Gesù è risorto dai morti è la stessa scrittura che lo dichiara, che lo conferma. La seconda evidenza sono le profezie del Vecchio Testamento che, appunto, profetizzano la resurrezione del Messia. Numero tre, la testimonianza che hanno reso gli stessi discepoli di Gesù, che poi sono diventati apostoli, nel momento in cui hanno visto, hanno toccato con mano che Gesù è risorto come Tommaso stesso, per esempio. La quarta evidenza, poi, è stata quella offerta da più di 500 persone, 500 testimoni, che hanno assistito. Quindi sono diventati testimoni oculari della resurrezione del Signore Gesù. E in ultimo, il quinto punto, non meno importante, è la testimonianza che rendono ancora oggi tutti coloro che, come me, come voi, come quelli che ascoltano, che hanno gustato la salvezza e il miracolo della nuova nascita, sono e siamo diventati testimoni della resurrezione di Cristo. Perché? Perché siamo testimoni del fatto che Lui vive. Abbiamo una relazione con Lui e abbiamo anche constatato, grazie a Dio, che quando chiediamo qualcosa al Padre nel nome di Gesù, il Padre ce lo concede e questo di per sé già è più che sufficiente per dimostrare che se Dio è vivente, vuol dire che è risolto dalla morte, e che quindi nel suo nome c'è potenza per operare segni, miracoli e prodigi. In effetti, uno dei compiti maggiori che avevano i discepoli, poi diventati apostoli, di Gesù nella Prima Chiesa, così come anche succede o dovrebbe succedere ancora oggi, è di dimostrare che Gesù è veramente risorto dai morti, operando nel suo nome segni, miracoli e prodigi che lo dimostrano. Ma torniamo alla prima evidenza, la scrittura. La scrittura stessa, o i versetti biblici, testimoniano e evidenziano che Gesù è veramente risorto dalla morte. E questo lo vorrei leggere insieme a voi, grazie anche all'aiuto della regia, in Prima Corinzi, capitolo 15, i versetti 3 e 4, che ci dicono appunto che Gesù è risorto dai morti. Paolo Apostolo dice, Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi le scritture stesse ammettono, sono l'evidenza autorevole, del fatto che Gesù Cristo, anche in perfetta adempimento alle profezie del Vecchio Testamento, è stato, grazie a Dio, per la potenza di Dio, resuscitato dai morti. Quindi, numero due, appunto, le profezie del Vecchio Testamento. Testamento. Circa da 1500 anni prima, fino a circa 600 anni prima che Gesù Cristo nascesse e resuscitasse, i profeti hanno profetizzato di questo tremendo, meraviglioso evento che manifesta la potenza di Dio nella Resurrezione. Ma un profeta in particolare, il profeta Osea, circa 680 anni prima della Resurrezione di Gesù, ha scritto e ha profetizzato della Resurrezione del Messia di Gesù. Osea, capitolo 6, versetto 2, ci dice che in due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci metterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Questa è una meravigliosa, tra le altre, perché ce ne sono tante altre, chiaramente per brevità citeremo solo questa, questa è una meravigliosa profezia che il profeta Osea descrive per quanto concerne l'opera che Cristo avrebbe realizzato mediante la sua Resurrezione. In due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci metterà in piedi. Sappiamo benissimo che Gesù, il terzo giorno, è risorto dalla morte dimostrando la sua assoluta vittoria sul peccato, sulle maledizioni, su Satana, sull'inferno, sulla morte, su ogni altra opera di tenebre. E grazie al principio dell'identificazione spirituale che per fede si realizza nelle nostre vite, così come dice anche l'Apostolo Paolo nella sua Lettere Romani al capitolo 6, dal verso 3 in poi, noi siamo morti con Cristo, siamo stati sepolti con Cristo, ma grazie a Dio allo stesso tempo siamo anche risorti con Cristo, quindi la sua Resurrezione diventa anche la nostra Resurrezione, la sua vittoria sul peccato, sul diavolo e sulla morte, sulle malattie e sulle maledizioni diventa anche la nostra vittoria su tutte queste cose, perché così come Cristo si è perfettamente identificato con noi, noi, grazie a Dio e con la nostra fede, possiamo e dobbiamo essere perfettamente identificati con Lui, con l'opera di redenzione che Lui ha compiuto, mediante la quale ci ha garantito la riconciliazione con Dio e la vita eterna. C'è molto di più, sette secoli prima della nascita di Cristo e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, anche un altro profeta, questa volta un profeta maggiore, Isaia, ha annunciato che Gesù sarebbe venuto e avrebbe pagato il prezzo per liberare l'umanità dalla schiavitù di Satana e del peccato. Il profeta Isaia lo descrive in diversi modi, leggeremo qualche brano, Isaia 52, dal verso 13 al verso 15, e poi dopo leggeremo Isaia 53, solo il verso 12, per brevità, ma questi versi ci dimostrano qualcosa di veramente importante. Isaia 52 dice, Ecco, il mio servo prospererà, sarà elevato, esaltato, reso, sommamente eccelso, come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, si da non parere più un uomo, e il suo aspetto si da non parere più un figlio d'uomo. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione, e io prego che l'Italia sia una di queste, non semplicemente sotto il profilo teorico, ma che l'Italia possa sperimentare una vera e propria resurrezione spirituale, un grande risveglio mediante il quale gli occhi degli italiani siano aperti, liberati da ogni forma di cecità religiosa e possono veramente rivolgersi a Cristo con tutto il loro cuore e essere illuminati dalla gloria di Dio. Quindi l'ammirazione dell'Italia, i rei chiuderanno la bocca dinanzi a lui, poiché vedranno quello che non era loro ma è stato narrato e apprenderanno quello che non avevano udito. E ora passiamo a Isaia, capitolo 53, versetto 12, che dice, Dio parla di suo figlio qui e dice, perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte, infatti come abbiamo detto oggi, nessuno gli ha tolto la vita, è stato Gesù che ha deciso di deporla proprio per garantire la nostra salvezza, infatti lui ha detto nessuno mi toglie la vita, sono io stesso che la depongo quando voglio e la riprendo quando voglio. Così Gesù dice, ed è stato annoverato fra i trasgressori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Ecco, questo è stato il momento nel quale Gesù ha vinto mediante la sua morte la morte stessa e tutte le opere di Terebre ed è poi risorto in gloria. Numero tre, la testimonianza resa dai discepoli di Gesù. Quindi siamo già tre testimoni. Il primo testimone è la scrittura, il secondo testimone come abbiamo detto sono le profezie del Vecchio Testamento. Adesso tocca ai discepoli di Gesù. Atti, capitolo 1, versetti dall'1 al 3 dicono Nel primo libro o Teofilo ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelto ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni e parlando delle cose relative al Regno di Dio. Fate attenzione a questo. Gesù si presentò vivente davanti a loro davanti a questi discepoli che erano che erano stati con lui avevano vissuto con lui in maniera in maniera costante per tre anni e mezzo quindi lo conoscevano bene e Gesù si fece vedere da loro vivente proprio per usarli come testimoni attraverso i quali dimostrare che lui era veramente risolto. Infatti lo stesso Giovanni Apostolo nella sua prima lettera poi dirà quello che noi abbiamo visto con i nostri occhi che abbiamo udito con le nostre orecchie abbiamo toccato con le nostre mani della parola della verità è quello che noi vi diciamo come testimoni quindi anche lo stesso Tommaso che era famoso per la sua incredulità disse se io non vedo con i miei occhi non vedo i buchi nelle sue mani e non metto il mio dito nel suo costato non crederò ma poi quando Gesù si presentò vivente in mezzo a loro e disse Tommaso vieni qua ti faccio vedere una cosa guarda ecco questi sono i buchi nelle mie mani e metti pure la tua mano nel mio costato in quell'occasione Tommaso si dovette ravvedere della sua incredulità e disse a Gesù oh mio Dio è mio signore e allora Gesù gli disse beh adesso che hai visto hai creduto ma beati coloro che crederanno senza aver veduto ecco questo è molto importante sottolinearlo perché perché la fede viene dall'udire e non dal vedere e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio quindi questi uomini tra i quali vi sono coloro che hanno scritto gli evangeli furono testimoni della vita di Gesù e della sua resurrezione la loro testimonianza è una testimonianza di prima mano ovvero non per sentito dire ma di prima mano perché loro hanno proprio fisicamente ocularmente assistito alla resurrezione di Gesù e quindi possono scrivere e descrivere quello che Gesù ha realizzato sia durante la sua vita sia durante la sua morte sia durante la sua resurrezione quarto testimone più di 500 testimoni oculari hanno dato la loro testimonianza per quanto concerne la resurrezione di Gesù vediamo quello che è scritto in prima corinzi capitolo 15 dal verso 4 al verso 7 dove dice con l'aiuto della regia li mandiamo in onda questi versi bene sono versi importanti dice che Gesù fu seppellito che è stato resuscitato il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli quindi in effetti la resurrezione di Gesù non è stata non è stato un evento che si è compiuto in segreto come se Dio volesse nascondere questo evento anzi questo è stato un evento al quale hanno assistito molte persone proprio per far sì che ci potesse essere una garanzia offerta dai testimoni che l'evento è veramente accaduto secondo la legge giudaica bastavano solo due o tre persone degne di fiducia abbastanza affidabili per stabilire una verità così anche biblicamente parlando noi sappiamo che non si può costruire una dottrina se non sulla base di due o tre versetti o testimoni affidabili allo stesso modo Dio ha usato diversi testimoni più di 500 testimoni per dimostrare la perfetta attendibilità della resurrezione del suo figlio Gesù Cristo in modo tale che non ci sia dubbio alcuno per quanto concerne la veridicità della sua resurrezione numero 5 anche noi che abbiamo avuto un'esperienza abbiamo gustato la nuova nascita abbiamo incontrato Gesù e quindi abbiamo fatto un'esperienza personale con lui diventiamo a nostra volta testimoni della resurrezione del Signore Gesù io vorrei prendere brevemente due minuti per accennare alla mia personale conversione l'esperienza che io ho fatto col Signore perché questo dimostra che Gesù è veramente risorto perché altrimenti se Gesù non fosse risorto non avrebbe potuto realizzare in me quello che invece grazie a Dio ha realizzato mi ricordo che io sono napoletano come ragazzo vivevo a Napoli avevo una palestra ero maestro di karate quinto dan e insegnavo karate culturismo eccetera e un giorno invitai un ragazzo che frequentava la palestra a fare una seduta spiritica e questo ragazzo invece che era un figlio di Dio era era nato di nuovo cominciò a testimoniarmi di Cristo dell'amore di Dio mi disse che Gesù mi voleva salvare che voleva che io avessi la vita eterna che lo conoscessi ma io cominciai a prenderle in giro e gli dissi sai se vieni con me ti porterò a ballare ti farò conoscere una bella ragazza così uscirai fuori da questa crisi mistica e magari ti riprenderai no? e lui mi disse sai Paolo io conosco il mondo nel quale tu vivi perché ci sono stato ma tu non conosci né Dio né il suo amore né la sua potenza e mi lasciò con queste parole e quindi io continuai a fare la mia vita verso le 11 11 e mezzo io chiudevo la palestra e con alcuni amici andavamo a divertirci a far bagordi notturni andavo sui quartieri spagnoli andavamo sui quartieri spagnoli all'una due di notte che c'era in maniera particolare una trattoria aperta alla quale andavamo a mangiare dopodiché andavamo al night un po' di spumato un po' di altre cose poi verso le 6 7 di mattina tornavamo a casa ecco una mattina di queste che io tornavo a casa nella mia macchina da solo cominciai a riflettere che se Dio fosse reale io ero perduto e quindi sono salito nella mia cameretta al quinto piano all'ultimo piano mi sono messo a letto ho chiuso tutte le finestre perché mi piace dormire al buio e mentre ero lì che stavo considerando il fatto che dentro di me mi vedevo sporco mi vedevo consideravo che se Dio era reale io ero perduto sicuramente lo spirito di Dio stava già convincendomi di peccato io cominciai a parlare con Dio come se Dio fosse lì presente nella mia stanza e dissi più o meno queste parole dissi Dio io non ti conosco non so se tu esisti ma se tu esistessi sul serio mi piacerebbe conoscerti certo mi rendo conto di essere un peccatore ti chiedo perdono per ogni mio peccato ma se tu esisti sul serio o ti fai conoscere da me adesso subito oppure non crederò che tu esisti credetemi carissimi non ho neanche finito di dire queste parole che io non ho più visto il tetto della mia camera ma ho visto i cieli aperti e una luce arrivare da un punto non definibile nel cielo e illuminare la mia stanza la mia stanza si è illuminata di questa luce soprannaturale non era una luce naturale come se qualcuno avesse acceso una lampada o altro era una luce soprannaturale che ha illuminato la mia stanza poi questa stessa luce è entrata dentro di me e ha fatto una specie di come si è mosso come una centrifuga tipo quando la lavatrice gira veloce e dopo qualche minuto qualche secondo non lo so descrivere ha portato via da me ha rimosso dal mio torace dalla mia vita qualcosa come mille chili diecimila chili io mi sono sentito leggero sul letto come se stessi volando non stavo volando mi sentivo leggero perché Dio aveva rimosso il carico del peccato quella è stata la mattina in cui ho gustato la nuova nascita senza essere mai andato in una chiesa senza aver mai letto una Bibbia semplicemente rivolgendo alcune parole sincere dal mio cuore a Dio con il desiderio di conoscerlo e Dio si è rivelato a me quella mattina ha designato Dio ha designato un cambio drastico e repentino nella mia vita non sono più stato la stessa persona fate attenzione a questo nel momento in cui ho avuto questa visita io sono stato certo assolutamente certo dell'esistenza di Dio e per la prima volta in vita mia mi sono sentito amato per la prima volta non perché mia mamma o mio papà o mio fratello o le mie sorelle o i miei amici non mi amassero ma non sto parlando di quel tipo di amore mi sentivo amato dentro come se come se finalmente avessi compreso l'amore di Dio e quella sensazione non mi ha mai lasciato ormai sono quasi 39 anni e passa che io ho conosciuto il Signore e ancora oggi io provo la sensazione dell'essere di sentirmi amato da Dio e in tutti questi anni Dio mi ha dato ampia dimostrazione del potere della risurrezione poi se avremo tempo magari potremo fare delle testimonianze circa guarigioni ed altro che Dio grazie a Dio ci ha concesso di poter gustare durante il nostro cammino con Lui quindi carissimi voglio invitarvi stasera se tu ancora non l'hai fatto se tu ancora non hai conosciuto Dio se tu ancora non hai gustato la nuova nascita o non hai ancora mai provato la sensazione di sentirti veramente amato da Dio io voglio invitarti a cercare Dio con tutto il tuo cuore a entrare nella tua cameretta che sia giorno che sia notte a chiudere l'uscio della tua camera e cercare Dio con tutto il cuore non c'è bisogno di essere un religioso non c'è bisogno di prendere una laurea in teologia basta che tu apri il tuo cuore come ho fatto io e dici al Signore Signore mi piacerebbe conoscerti rivelati a me certo mi rendo conto sono un peccatore ti chiedo perdono ma tu rivelati nella mia vita affinché io ti possa conoscere seguire e diventare un tuo discepolo e io ti assicuro che se tu farai questa preghiera con tutto il tuo cuore la farai onestamente Dio si rivelerà a te perché Dio ti ama e non vede l'ora di salvarti e di annoverarti fra coloro che sono parte del suo popolo Dio ti benedica e grazie per avermi ascoltato vuoi vuoi pregare per e insieme a qualcuno che sente che ha bisogno di un tracciato per avvicinarsi al Signore chiamiamola la preghiera del penitente del peccatore un un'apertura che mettergli le parole in bocca perché io mi ricordo quello che successe a me io avrei voluto pregare ma non sapevo che cosa dire e fu il pastore ispirato nel dirmi vuoi che prego per te tre quattro parole mi introdusse e si aprì il cuore il Signore fece un'opera potente mi salvò e mi battezzò nello Spirito Santo diciamo che molte volte quando siamo bloccati abbiamo bisogno di chi ci dà ci aiuta con delle parole che sinceramente poi vengono espresse dal cuore e si aggancia quel potere divino che penetra nel cuore e trasforma la persona fallo per chi ha bisogno di entrare con poche parole ma col cuore e noi preghiamo perché lo Spirito Santo possa parlare a chi sente che il Signore lo sta penetrando attraverso lo Spirito Santo Amen come no credo sia giusto pregare e per aiutare coloro che sono in ascolto e magari vogliono pregare insieme con noi e non l'hanno mai fatto prima posso chiedervi di ripetere le mie stesse parole così che aiutiamo le persone che ascoltero io pregherò in maniera molto semplice voi ripetete insieme a me in modo tale che anche gli altri da casa possono ripetere vi chiedo solo amici a casa di ripeterle non solo le parole con le labbra ma anche con il cuore in modo tale che possono essere vere reali chiudiamo i nostri occhi per favore padre caro nel nome di Gesù veniamo alla tua presenza sì signore vogliamo presentarti questi cari signore che ancora hanno bisogno di gustare il miracolo della nuova nascita sì signore dite con me grazie padre per Gesù grazie padre per Gesù grazie che lui ha pagato grazie che lui ha pagato il prezzo dei miei peccati grazie perché ha pagato il prezzo dei miei peccati grazie perché ha pagato lui è morto sulla croce per me e mi ha redento dal potere delle tenebre e dal peccato padre io riconosco e ricevo Gesù Cristo come mio personale signore e salvatore come mio personale signore e salvatore affido a te la mia vita affido a te la mia vita ti chiedo perdono per ogni mio peccato ti chiedo perdono per ogni mio peccato e prego che tu ti riveli nella mia vita e mi fai diventare un tuo discepolo ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo amén amén grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti